Ciao Davide, grazie di essere qui a fare queste due chiacchiere, per me è un momento molto importante di scambio e mi fa piacere se anche tu puoi dare un parere, intanto se vuoi salutare, dire chi sei, cosa fai nella vita. Sì, ciao, sono Davide, sono un ingegnere civile e fondamentalmente la mia attività consiste nell'essere impegnato H24 e questo è determinante per tutta una serie di cose che andrò magari poi a dire più avanti. Certo, allora che cosa in particolare stavi cercando quando ci siamo incontrati e che cosa ti ha attratto soprattutto del percorso che proponevo? Fondamentalmente ecco, ricerca di uno strumento che mi aiutasse in qualche modo a gestire soprattutto alcuni momenti della mia giornata ovvero la fase di stacco dal lavoro e riuscire a vivere a pieno la quotidianità cosa che più o meno era diventata impossibile per via del fatto che oltre all'effettivo impegno lavorativo avevo tutta una serie di pensieri che più o meno in qualche modo anche mi limitavano durante la giornata e quindi nella quotidianità quindi ero alla ricerca di uno strumento di questo tipo e quello che mi ha attratto del progetto, del percorso che proponevi che stavi proponendo in quel periodo in cui avevamo iniziato appunto era anche la completezza ecco del programma e quindi avendo anche valutato altri percorsi di questo tipo mi sembrava appunto che fosse piuttosto completo Dici una cosa secondo me già molto interessante che è quella proprio di dire al di là dell'avere una giornata già piena perché io spesso ripeto che non è tanto importante quando io do il consiglio prenditi del tempo non vuol dire prenditi un mese di ferie o licenziati dal lavoro ma piuttosto anche di quei dieci minuti di pausa che ci sono fa un'estrema differenza se li viviamo serenamente, siamo vuoti e sereni con noi stessi oppure se anche in quei dieci minuti la mente continua ad andare a treno che cosa senti di aver ottenuto dopo il percorso? Fondamentalmente ecco attraverso degli strumenti che abbiamo imparato in qualche modo a gestire ecco riuscito a mettere in pratica quello che desideravo in realtà innanzitutto venivo da un periodo piuttosto lungo nel quale facevo difficoltà proprio a parte non tanto a prendere sonno quanto più ad avere continuità mi svegliavo spesso di notte anche per il rumore più piccolo comunque il mio problema principale era che questo riposo non mi ristorava in nessun modo quindi partiva la giornata che ero già senza energie e quindi fondamentalmente la cosa che ho ottenuto è stata innanzitutto riequilibrare questo aspetto della mia vita e giustamente da lì a cascata sono migliorate anche altre cose anche l'entusiasmo con cui si affrontano determinate cose durante la giornata eccetera 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 però diciamo che il punto di partenza è stato quello per esempio nella quotidianità qualcosa che hai visto cambiare proprio con un'abitudine di cui ti accorgi e che riesci magari a superare in maniera più serena? per esempio io durante la giornata vivo anche dei momenti in cui ho diversi input per diversi intendo anche decine di input in contemporaneo e prima accadeva che non riuscissi a gestire chiamate si 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 chiamate su fronti diversi inerenti a tematiche completamente diverse l'una dall'altra e quindi in questi casi la cosa più secondo me anche come posso dire pesante oltre a non saper a un certo punto processare tutte le informazioni e quindi metterle magari in ordine iniziare ad affrontare una per volta avevo proprio una sorta di come posso dire di di ansia perché comunque non riuscendole appunto a gestire la paura più grande era quella di andare a non so oltre a una scadenza piuttosto che a non essere appunto efficiente nel mio lavoro ecco in questi momenti la cosa che mi ha aiutato del fare pratica è comunque stata quella di riuscire in qualche modo a prendere fiato a focalizzare diciamo la situazione mettere a fuoco la situazione e appunto gestire le cose come in realtà sapevo fare però non riuscivo più a fare in determinati momenti sì quindi in pratica ritornando al discorso che facevamo anche prima quella possibilità di staccare di imparare a riconoscere alcuni meccanismi automatici in realtà rende anche molto più approfondite le qualità e le competenze che uno ha anche sul lavoro in questo caso tu stai parlando del lavoro come del sonno diventa tutto molto più vero e intenso certo anche la percezione di alcune cose che ci circondano come può essere un paesaggio che o non so qualunque cosa che alla quale fondamentalmente quando siamo presi dai ritmi infernali che ognuno di noi ha non notiamo più ecco quindi anche in quel caso per esempio mi ritrovavo nel passeggioro nel parco per esempio faccio un esempio sì ok tutto molto bello tutto molto figo ma poi fondamentalmente non riuscivo a godermi appieno mentre tutto sommato adesso se pure per esempio una giornata molto pesante e faccio un giro al parco così riesco a godermelo appieno a fermarmi a focalizzare diciamo la mia attenzione sui dettagli su quello di cui ho bisogno che in quel caso magari rilassarmi non pensare a nulla e ci riesco cosa che sembrerà incredibile però mi è mancata parecchio ecco sì assolutamente che è una cosa che manca a molti no? tutti quanti possono trovare un metodo uno strumento un sistema che per fermarsi e per essere consapevoli di che cosa sta succedendo ora no? e di dove sono di come stanno tu in particolare hai vissuto dei momenti in cui hai sentito che la tua pratica è migliorata oppure che qualcosa nella tua vita è migliorato dopo un incontro in particolare allora fondamentalmente ecco la cosa che è migliorata rispetto all'inizio perché poi per me era la prima esperienza di questo tipo poi magari in altre circostanze si possono fare paragoni anche con altri tipi di di strumenti ecco però per quanto mi riguarda all'inizio per esempio la meditazione o comunque le sedute che facevamo poi mi conduceva in qualche modo ad assopirmi ecco questa è la cosa che mi ricordavo delle prime sedute no? che tutto sommato era effettivamente quello che cercavo ovvero il riposo sì il riposo rilassarmi eccetera l'ottenevo anche in maniera piuttosto proficua però con la pratica poi diciamo che si arriva in uno stato che non è più diciamo quello di assopimento totale nel mio caso era proprio era proprio così all'inizio ma uno stato di rilassatezza estrema e comunque anche di energia ecco a un livello energetico anche superiore quindi alla fine delle meditazioni all'inizio magari dicevo sono riuscito a chiudere gli occhi bellissimo e magari quel riposo di pur di 5 minuti era ristoratore come non lo era per esempio una dormita di 3 ore poi invece questa fase poi cambia in qualche modo e diciamo si arriva a ottenere una consapevolezza costante durante la meditazione senza avere quell'assopimento però non saprei definire esattamente quando è successo questo è una cosa che viene col tempo sì esatto a volte è proprio un processo che colpisce in particolare secondo me c'è proprio anche la preziosità del lavoro del lavoro che si fa perché siamo abituati a rilassarci soprattutto dentro alle nostre emozioni o a uno stile di vita frenetico siamo abituati a rilassarci solo prima di prendere sonno in realtà poi la svolta si ha quando ci si rende conto che posso essere rilassato ma al contempo fare tantissime cose quindi avere uno stile di vita attivo questa è stata un'ottima scoperta nel mio percorso personale e ora che cosa stai facendo nella tua vita com'è cambiato anche gli obiettivi che ti poni il punto in cui sei beh fondamentalmente diciamo che già riuscire a in qualche modo a migliorare quegli aspetti che erano diventati veramente troppo negativi ovvero che non so già il fatto di partire ecco la mattina che fondamentalmente avevo già bisogno di riposare di nuovo e comunque tornare sempre stressato sono tutte cose che piano piano ho migliorato è ovvio che si può sempre migliorare in tal senso e penso comunque allo stato attuale sono estremamente soddisfatto ecco dei miglioramenti che ci sono stati però ecco conto di migliorarli ulteriormente migliorare questi aspetti ulteriormente ok senti di avere in parte l'hai già espresso dicendo che comunque riesci a mantenerti lucido sveglio consapevole presente anche ora una parte che chiedo sempre che riguarda l'autonomia che per me è molto importante è se senti di aver acquisito gli strumenti che ti permettono di gestirti a casa sì assolutamente allora a parte il fatto che comunque la meditazione guidata è sicuramente molto efficace ecco soprattutto all'inizio quando giustamente lo strumento lo si sta acquisitando e non lo si padroneggia poi fondamentalmente attraverso soprattutto ecco mi viene in mente il body scan che è la cosa a quale faccio ricorso più spesso si raggiunge anche una certa autonomia anche perché certi processi poi diventano personali nel senso che lo strumento viene in qualche modo introdotto e poi io ritengo poi correggimi se sbaglio diciamo poi ognuno lo personalizza in qualche modo c'è una parte in particolare che riguarda anche tutta una sfera emotiva del body scan visto che l'hai nominato tu come l'hai vissuta il tuo contatto con le emozioni nel percorso? beh allora io diciamo che non sono mai stato ecco in qualche modo come devo dire portato ecco nel corso degli anni ad approfondire questo contatto con le emozioni se non in maniera istintiva ecco quindi quindi mi sono meravigliato in alcuni casi di di alcune sensazioni di alcuni sentimenti che ho provato durante la meditazione questo sì e all'inizio ovvio che ti colgono un po' di sorpresa poi a un certo punto invece come posso dire uno impara ecco ad osservarsi anche in quello stato e a riconoscersi in quegli stati ecco che all'inizio ripeto ti sorprendono ti sorprende poter pensare ecco di commuoverti pensando a qualcosa che ti viene evocato durante la meditazione e poi dopo un po' accetti anche quello e diventa una cosa del tutto naturale la commozione per me è la base di questo lavoro nel senso che credo che riportarsi in contatto con la nostra natura o con chi siamo comunque perché di quello stiamo parlando poi con le pratiche di meditazione piuttosto che con un percorso il potersi commuovere proprio perché si rientra in contatto con una sfera del tutto personale con un'esperienza di sé che va oltre all'idea di come dovremmo essere di come dovremmo essere di come dovremmo essere